Ma che stai macco? Bottoni di telefonino? Benny! Una visita da un euro, Benny! Una visita da un euro! Una visita da un euro! Una da un euro! Facciamo un secondo il Ciaro, Benny! Benny, il Ciaro è un mostro, non un euro! Facciola tagliare, non sapete che bene! E' la faccio io! Ma fatti la sparta, non lo mienzo, dai! Benny, ma tagli il non mienzo! Hai fatto dei 50 centesimi e 10! Ah, non è bene! Ufff! Bravo, sarebbe la metà! Non è il lavoro di tutto! Un'età è scuro, c'era! Hai capito? Non tiriamo pure come fare il suo senso! Che è quando un cucciamone! Perché devo affidare la mia vita nell'autonale! ahaha Non ciò? Eh, non lo può fare! Adesso, piccati, che sta bagatisca! Adesso, la stella rispondola, non c'è! Il nostro ha sempre rispondola in un po foi! Oh, bella, bella! Ah, bella! Oh! Non ho posso! Non ho a posto! Scarfese, ho mangiato, ho mangiato! Ho mangiato! Meglio così! ma lei lavora qua mister come sento ma lei ce l'hai pagato mai come? come? che lavoro fa? non sono quelle calde bello guarda su chi è da capo ma arriva una lattina bene ma è solo lui sa con chi è una munizia lei si pensa a terribire ma ci sei non capisco quanto fuori si ha fatto da 10-15 anni e devi fare un'altra cosa se vado a perluscona e stondaglia ma come c'è l'esco ma come c'è l'esco non c'è l'esco non c'è l'esco ma pensate ma chiamate mi c'è l'esco benza non c'è benza non c'è benza e nè ma i pizzetti a capo non ti ho sapevo Grazie a tutti.